cerchio e seno cerchio e seno attraverso nt 16 dicembre 2023 a cura di vb alexander allora sappiate affrontare i problemi che a voi sembrano gravosi con più serenità con più volontà di superarli ci sono problemi che purtroppo fanno soffrire molto le entità incarnate voi ritenetevi fortunati ora provo ad alzarmi se sentirete crollare non vi spaventate che sensazione strana di sentire un corpo che vibra io mi devo uniformare a queste vibrazioni 18 minuti e 26 secondi ecco va molto meglio non sarà molto lunga questa riunione in quanto dobbiamo tenere conto che le energie dello strumento vengono sempre meno in quanto c'è l'età ci sono problemi fisici eccetera però finché c'è la vostra volontà e la nostra volontà e specialmente alla volontà dello strumento procediamo abbiamo passato con voi tanti anni della vostra dimensione vero vorrei invitarvi a riflettere sull'importanza delle azioni vostre nella dimensione terrena ogni azione positiva ricordate lascia una traccia indelebile sia per voi che per i vostri simili e ogni azione negativa purtroppo lascia un altrettanto pesante traccia però in senso peggiorativo ora finché le energie sono integre Isabella vuole completare il suo intervento in macchina avete sentito il profumo vero domanda addirittura Dario sì che non sente mai niente Alexander quindi vedrà di fare felici tutti voi momentaneamente vi lascio Isabella siete molto cari e tanto che non faccio sentire la mia voce vero allora io vorrei questa sera gratificare in modo particolare due del gruppo o tu sei dolce e stai soffrendo molto ma ricorda la sofferenza è un viatico vero domanda sì lo so Isabella devo raggiungere i e g potete guidarmi nella vostra viene aiutata grazie una carezza la gradisci i grazie Isabella e tu lavoratore instancabile allora vi prego concentratevi devo creare le giuste condizioni Antonello ti prego aiutami ecco è materializzata una pioggia di gocce di profumo voglio fare sentire a tutti tutti ringraziano Isabella grazie a voi mi avete reso felice questa è l'emozione che io gradisco la nostra emozione è come una preghiera grazie 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 cerco di ritornare a posto qualcuno di voi può aiutarmi chi sei tu domanda Alessandro io sono Alessandro Isabella sentite ancora il profumo tutti sì Isabella grazie i vostri sentimenti positivi sono per me un viatico per procedere nell'evoluzione grazie